L'offerta formativa della città di Sapri si amplia. Dal prossimo anno scolastico sarà istituito l'indirizzo sportivo presso le scuole medie dell'Istituto Comprensivo Santa Croce. Si tratta del primo istituto del Basso Salernitano che incrementando le ore curriculari impegnerà gli alunni che sceglieranno lo sportivo in alternativa al percorso tradizionale in un progetto di valorizzazione dell'educazione fisica e motoria. Lo studio delle discipline sportive verrà affrontato in modo pratico ma anche teorico-culturale. L'obiettivo non sarà solo impegnare gli alunni nel movimento ma anche fargli conoscere il corpo e comprendere l'importanza di una corretta alimentazione. L'indirizzo sportivo è stato chiesto dalla preside Paola Migaldi sulla base di un articolato piano di attività da svolgere negli impianti a disposizione sul territorio. La proposta è stata supportata dai comuni di Sapri e Turraca accolta dalla provincia di Salerno e promossa dalla direttrice generale del MIUR in Campania e dall'assessore regionale alla pubblica istruzione e rientra nel piano regionale sul dimensionamento scolastico. Un piano che la prossima settimana passerà al vaglio della giunta della regione Campania per poi entrare in vigore con il prossimo anno scolastico. Tra le proposte che non sono state accolte l'istituzione di una scuola secondaria di secondo grado ad indirizzo IPSAR a Sanza. Bocciata anche la richiesta dell'indirizzo nautico a Casalvelino e il passaggio del plesso di Roscigno dal comprensivo di Castelcivita a quello di Roccadaspide.